Come rimedio, mi avete chiesto rimedio senza oli troppo pregiati, particolari, ma oli che abbiamo tutti, potete usare dell'olio d'oliva che contiene tantissima vitamina E, quindi se non avete le capsule usate l'olio d'oliva e ha un concentrato di vitamina E assurdo, e poi del succo di limone che anche lui è sottovalutato ma ha la vitamina C all'interno e quindi aiuta a rigenerare la pelle e le unghie, quindi dovete semplicemente mescolare e poi andarlo ad applicare con movimenti circolari. Come vedete è tutto molto semplice, io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale e lasciami un commentino. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!